ok allora quello che vorrei fare oggi è concludere i metodi risolutivi per le equazioni differenziale differenziali quindi metodi risolutivi vi ripeto quello che abbiamo visto abbiamo visto equazioni lineari del primo ordine poi abbiamo visto equazioni a variabili separabili che sono sempre equazioni del primo ordine scusate fatemi controllare se ho avviato qui sì e poi abbiamo visto terza tipologia quella un po forse un po più complessa sono le equazioni lineari a coefficienti costanti di ordine qualunque in questa tipologia abbiamo abbiamo osservato che un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti come si scrive si scrive in questa forma qui diciamo in generale si può scrivere così u derivata ennesima se vogliamo calcolata in x più la somma per k che va da 0 a n meno 1 di un coefficiente a con k numero reale derivata k esima di x quindi c'è la derivata ennesima per convenzione mettiamo che ha coefficiente 1 poi ci sono tutte le altre derivate e questo è uguale a una funzione chiamiamola b di x queste sono diciamo la formula generale per un'equazione differenziale lineare è lineare perché i termini di u e le sue derivate compaiono in modo lineare e in generale questa diciamo può essere omogenea o non omogenea quindi se se b uguale a 0 si dice omogenea se b è diverso da 0 è non omogenea quello che abbiamo visto la volta scorsa è che si può associare un polinomio cioè in effetti questo è un polinomio calcolato nell'operatore di derivata applicato a u si può scrivere così la nostra equazione in maniera un po più compatta dove p p di lambda chiamiamolo un polinomio che non è altro che lambda la n più è un polinomio che ha gli stessi coefficienti gli stessi coefficienti che ci sono nell'equazione a con k lambda la k quindi un polinomio monico il coefficiente del termine di grado massimo è 1 di grado n questo è un polinomio si può chiamare polinomio associato all'equazione polinomio forse si può chiamare polinomio caratteristico quello che abbiamo visto la volta scorsa è che se il polinomio si fattorizza e noi sappiamo che il polinomio si fattorizza sempre nel campo dei numeri dei complessi ma quello che abbiamo visto la volta scorsa è il caso più semplice se abbiamo una fattorizzazione con radici reali lambda meno lambda 1 lambda meno lambda 2 fino a lambda meno lambda n n radici distinte allora noi sappiamo che u chiamiamola k la funzione uk di x e alla lambda k di x quindi l'esponenziale con coefficiente lambda k pari a una di queste radici tutte queste funzioni esponenziali sono una base dello spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea quindi lo span di u 0 u 1 cioè questo abbiamo cominciato a chiamare da 1 da 1 u 2 uk è il nucleo dell'operatore l che sarebbe p di d l di u si potrebbe chiamare l potrebbe essere diciamo il nucleo dell'operatore l che non è altro che il polinomio p applicato all'operatore derivata e cioè sono questo è l'insieme delle soluzioni dell'equazione omogenea l di u uguale a 0 ok il nucleo dell'operatore è per definizione l'insieme di tutti i vettori che vengono mandati a 0 dalla dall'operatore lineare e quindi in questo caso è l'insieme delle funzioni che soddisfano l'equazione omogenea quindi abbiamo visto il caso di radici reali distinte quindi la volta scorsa abbiamo visto le radici reali distinte e abbiamo visto l'equazione omogenea e oggi cosa dovremmo vedere radici con molteplicità radici complesse e con molteplicità insomma si ritratterà allo stesso modo e poi dovremmo vedere l'equazione l'equazione non omogenea speriamo di riuscire a fare tutto questo l'equazione non omogenea ci sono due metodi risolutivi quindi la prima parte riguarda le equazioni omogenee una volta che uno sa risolvere l'equazione omogenea per risolvere l'equazione non omogenea l'abbiamo già detto abbiamo già detto già due volte è sufficiente trovare una soluzione dell'equazione non omogenea perché tutte le altre soluzioni si ricavano aggiungendo a questa soluzione particolare che uno riesce a trovare una qualunque soluzione dell'equazione omogenea e ci sono due metodi per trovare la soluzione una soluzione particolare uno è il metodo di somiglianza e uno è il metodo della variazione delle costanti ok allora questo è per darvi l'idea di quello che abbiamo fatto le lezioni scorse metodi risolutivi ci sono sostanzialmente tre tipologie di equazioni che vi chiediamo di di saper risolvere e l'ultima categoria sono equazioni lineari e coefficienti costanti l'abbiamo iniziata mercoledì e oggi vediamo se riusciamo a finirlo la cosa è un po lunga ma spero di riuscire a fare speriamo almeno quasi tutto dopodiché siete in grado di fare tutti gli esercizi sulle sulle equazioni differenziali quindi questo fine settimana vi darò un po di esercizi con cui tenervi in allenamento potete guardare eventualmente i compiti degli anni scorsi e la prossima settimana cercheremo di fare qualcosa di più teorico d'accordo allora guardando questo programma abbiamo visto la volta scorsa come si trattano le radici reali distinte abbiamo visto che le soluzioni diciamo fondamentali c'è una soluzioni una base dello spazio delle soluzioni sono le esponenziali e alla lambda x con lambda radice dell'equazione allora giustamente già la volta scorsa mi avete chiesto ma cosa si fa se c'è una radice multipla e facciamolo facciamo un esempio quindi un esercizio diciamo che abbiamo questa equazione differenziale del secondo ordine u secondo più 2 u primo più u uguale a 0 la prima cosa che dovete fare in generale è scrivervi il polinomio associato p di lambda o p di t a volte si usa la variabile t a volte lambda è lambda quadro più 2 lambda no più 1 qui scusate questo è una u ok nell'equazione differenziale compare u che è la derivata zeresima e le sue derivate derivata prima derivata seconda la derivata di ordine massimo vi dice qual è il grado dell'equazione e ovviamente il polinomio associato per trovare il polinomio associato prendete gli stessi coefficienti ci mettete un polinomio in lambda quindi sostituite sostanzialmente le derivate di u con le potenze di lambda quindi l'errore che ho fatto io che la derivata zeresima cioè la funzione viene sostituito da lambda alla 0 cioè il coefficiente 1 che c'è qui davanti viene moltiplicato per 1 ok questo è il polinomio associato il polinomio va fattorizzato in questo caso è abbastanza evidente che questo è un quadrato perfetto questo è lambda più 1 al quadrato quindi qui abbiamo una unica radice reale lambda 1 è uguale a meno 1 con molteplicità chiamiamola m1 la molteplicità della radice 1 2 questa è la molteplicità la molteplicità è l'esponente con cui la radice compare nella fattorizzazione del polinomio cioè in generale ora sulle equazioni del secondo ordine che sono le più comuni per noi l'equazione del secondo ordine io posso avere io ho due radici e se sono reali diciamo se ce n'è una multipla deve essere una radice reale perché le radici complesse vi ricordate sono complesse coniugate quindi se ce n'è se c'è una radice complessa c'è anche la complessa coniugata che è diversa e quindi se ho solo due radici non possono essere complesse e di molteplicità maggiore di 1 ma una radice reale in un polinomio di grado 2 può avere molteplicità 2 in questo caso esaurisce la fattorizzazione il polinomio è un quadrato perfetto comunque in generale il polinomio si decompone come un prodotto di monomi lambda meno lambda k elevati a una potenza che si chiama molteplicità della radice della radice corrispondente quindi in questo caso abbiamo una radice con molteplicità 2 allora noi sappiamo che l'operatore differenziale quindi si scrive come d più 1 al quadrato u uguale a 0 questa è la nostra equazione cioè d più 1 per applicato a d più 1 applicato a u uguale a 0 e certamente come abbiamo visto la volta scorsa se io risolvo di u più u ricordiamoci che cos'è d più 1 di u questo è u primo più e quindi se io risolvo u primo più uguale a 0 ottengo 0 qui e applicandoci qualunque operatore lineare 0 viene mandato in 0 quindi d più 1 di 0 farà 0 e quindi trovo una soluzione per cui una soluzione è u di x questa equazione la sappiamo risolvere in generale se io ho u primo meno lambda u uguale a 0 una soluzione è u di x uguale e alla lambda x questo è un caso particolare l'equazione lineare del primo ordine l'abbiamo già vista era la prima tipologia e le sappiamo risolvere quindi una soluzione è in questo caso e alla meno x d'accordo perché lambda 1 è meno 1 il problema è che se ora scambiamo questi due operatori non troviamo un'altra soluzione diversa da questa e allora come si fa a trovare d'altra parte diciamo in astratto noi sappiamo che lo spazio delle soluzioni comunque è dimensione 2 quindi ci deve essere un'altra soluzione indipendente da questa che risolve l'equazione e allora vuol dire che c'è un'altra funzione immaginatevi qui d più 1 l'operatore d più 1 manda e alla meno x lo manda in 0 quindi e alla meno x è nel nucleo dell'operatore d più 1 viene mandato in 0 io ora vorrei sto cercando qualcosa qualcos'altro che viene mandato a 0 evidentemente non immediatamente dal primo dalla prima applicazione dell'operatore ma quando lo applico due volte ok io devo vedere evidentemente c'è una qualche funzione che viene che non viene mandata a 0 se io lo applico applico una volta l'operatore d più 1 ma viene mandato a 0 se lo applico due volte quindi vuol dire che c'è qualcosa che viene mandato qui io devo trovare qui la funzione tale che se io applico l'operatore d più 1 a questa funzione ottengo la funzione e alla meno x e in realtà questo lo potremmo anche trovare esplicitamente perché io mi sto chiedendo sto cercando una funzione u tale che d più 1 di u non è uguale a 0 questo lo sappiamo già abbiamo già risolto ma è uguale a e alla meno x ho un multiplo di e alla meno x ok se io trovo una funzione u tale che d più 1 di u è uguale a e alla meno x se applico d più 1 due volte la prima volta ottengo e alla meno x la seconda volta e alla meno x va a 0 e quindi questa funzione risolve l'equazione differenziale e se voi provate a esplicitarlo questo significa che u primo più u è uguale a e alla meno x e questa di nuovo è un'equazione differenziale lineare del primo ordine non omogenea ma noi la sappiamo risolvere la sappiamo risolvere perché l'equazione del primo ordine lineare le abbiamo risolte le sappiamo risolvere tutte sostanzialmente e come si risolve? bisogna moltiplicare l'equazione vi ricordate per il fattore integrante u primo ora la risolvo poi scopriremo che è banale trovare le soluzioni ma giusto perché la prima volta che lo vediamo uno potrebbe se non sa dove andare a parare può cercare di risolverla moltiplico tutto per e alla x questo è il fattore integrante e e alla meno x per e alla x fa 1 allora sul lato sinistro ho la derivata di un prodotto la derivata di u per e alla x vedete u primo e alla x più u la derivata di e alla x è sempre e alla x uguale 1 sarebbe la derivata di x e quindi u e alla x è uguale a me basta una qualunque soluzione non le devo trovare tutte me ne basta una quindi per esempio per esempio u e alla x uguale a x da cui u uguale x e alla meno x ok? e questa è una seconda soluzione diciamo se la prima era e alla lambda x la seconda soluzione u2 è x e alla meno x e in effetti quindi u2 è indipendente da 1 perché? perché se voi cosa vuol dire che è indipendente? che non è un multiplo, no? di 1 e perché se voi fate x e alla meno x diviso e alla meno x questo fa x che non è la funzione identicamente non è una costante non è una funzione costante d'accordo? perché indipendente vuol dire che una funzione non è multiplo dell'altra cioè non si ottiene dall'altra moltiplicandola per un coefficiente costante e quindi se il rapporto dipende da x questa non è una costante questa non è costante e quindi le due soluzioni sono indipendenti e quindi lo spazio delle soluzioni abbiamo trovato due soluzioni indipendenti abbiamo trovato quindi tutte le soluzioni il nucleo di d più 1 quadro di questo operatore e cioè l'insieme delle soluzioni soluzioni di lambda di l u uguale a 0 l'equazione omogenea è lo span di u1 e u2 e quindi si può scrivere in questa forma la soluzione generica dell'equazione di questa equazione è una combinazione lineare di u1 e u2 quindi è della forma coefficiente a grande chiamiamolo e alla meno x più coefficiente b grande x e alla meno x e volendo si può scrivere in questa forma raccogliamo e alla meno x quindi a più bx e alla meno x d'accordo? allora in questo caso l'abbiamo risolto in questo modo trovando la soluzione ma possiamo intuire qual è la situazione generale la situazione in generale in generale questo esempio mi suggerisce di guardare quindi questo è un esempio ditemi se ci sono dubbi su questo esempio noi non faremo tutta questa fatica ora vi dirò come si trovano le soluzioni delle equazioni omogenee a coefficienti costanti voi dovete darle una volta scomposto il polinomio c'è una regola che vi dice immediatamente quali sono quindi ora vedremo la regola generale quindi non preoccupatevi di dover ripetere questo calcolo non sarà necessario ora vediamo come dire immediatamente quali sono le soluzioni ma insomma può essere utile capire come ci siamo arrivati quindi d'accordo spero sia abbastanza chiaro quello che abbiamo fatto in generale mi posso chiedere se io ho l'operatore di meno lambda no? perché in generale io ho una radice lambda lambda k con una molteplicità mk e allora questo esempio mi dà l'idea che io devo guardare cosa succede quando io applico un operatore di questo genere d meno lambda a una funzione che è un polinomio q di x per un esponenziale e alla lambda x quanto fa ok? abbiamo l'idea di andare a guardare funzioni che hanno questa che sono scritte in questa forma le funzioni esponenziali abbiamo capito sono importanti sono gli autovalori gli autovettori dell'operatore derivata ora quello che stiamo facendo non so se voi l'avete visto nei metodi di diagonalizzazione in particolare se una matrice non è diagonale se un operatore non è diagonalizzabile si cerca di triangolarlo e uno va a guardare quelli che si chiamano autovettore generalizzati che non sono autovettori no in generale se io lambda l di u uguale lambda u questo è un autovettore autovettore e questo vuol dire che l meno lambda di u uguale a 0 come si trovano gli autovettori voi prendete l'operatore l ci togliete lambda volte l'identità fate il determinante perché state cercando il nucleo di questo di questo operatore l meno lambda quindi se il determinante è nullo quel lambda è un autovalore il nucleo di questo operatore vi dà gli autovettori invece un autovettore generalizzato è proprio quello in cui l meno lambda è elevato a una certa potenza m da 0 quindi invece che il nucleo dell'operatore l meno lambda andate a cercare il nucleo di una potenza di questo operatore ora quello che andremo a vedere è che gli autovettori generalizzati dell'operatore d meno lambda sono proprio in questa forma e ora lo andiamo a verificare quindi polinomio q di x lo chiamo q perché p era il polinomio associato all'equazione quindi lo chiamo q è un altro polinomio che non c'entra niente è un polinomio qualunque e alla lambda x cosa succede se applico questo operatore? beh quindi devo fare cosa uguale questo a cosa uguale devo fare q di x e alla lambda x derivata meno lambda q di x e alla lambda x questa è la derivata di un prodotto q primo di x e alla lambda x più q di x lambda e alla lambda x meno lambda q di x e alla lambda x e qui vedete che si cancella questo sì e quindi osserviamo questo fatto strano che che l'operatore d meno lambda applicato a una funzione del tipo polinomio per esponenziale vi dà una funzione del tipo polinomio per esponenziale dove il polinomio viene derivato ok? quindi abbiamo visto che d meno lambda ora abbiamo visto d meno lambda ma quanto farà d meno lambda alla m quindi se lo applico a m volte d meno lambda alla m di una funzione del tipo polinomio per esponenziale non è altro che questo operatore curiosamente qui diciamo la cosa non è una coincidenza insomma si potrebbe studiare come mai succede questa cosa ma prendiamola come una curiosità l'operatore d meno lambda quando lo applico a una funzione di questa forma lambda è lo stesso qui è importante che questo lambda sia uguale a questo perché così si cancellano quei due termini allora questo operatore opera banalmente facendo la derivata del polinomio a moltiplicare questo è se lo applico m volte quindi farò m derivate questa è la derivata m esima del polinomio per l'esponenziale ok quindi questo ci dice che cosa beh intanto ritroviamo il fatto che se il polinomio è costante la derivata è 0 e quindi l'esponenziale costante per esponenziale sta nel nucleo dell'operatore d meno lambda viene mandato a 0 ma non solo se io voglio sapere quali sono le funzioni che vengono mandate a 0 dall'operatore d meno lambda elevato alla m quindi con una certa molteplicità semplicemente andrò a prendere i polinomi di grado inferiore a m quindi se q se il grado di q qui non l'ho mai scritto l'ho detto a voce q è un polinomio q polinomi quindi se il grado di q è minore di m d meno lambda alla m di q di x e alla lambda x è uguale a 0 e quindi quanti sono i polinomi di grado minore di m i polinomi di grado minore di m sono uno spazio vettoriale di dimensione m e quindi trovo effettivamente m m soluzioni indipendenti e tra l'altro qual è una base dei polinomi questo sicuramente l'avete visto a geometria al corso di geometria una base quindi una base di soluzioni e quindi io prendo e alla lambda x che sarebbe e alla lambda x per il polinomio 1 e poi prendo x e alla lambda x x quadro e alla lambda x fino a x alla m meno 1 e alla lambda x perché 1 x x quadro x alla m meno 1 formano una base dei polinomi di grado inferiore a m perché ogni polinomio di grado inferiore a m è per definizione diciamo in forma canonica è una combinazione lineare di questi monomi d'accordo? ok? e quindi quindi è abbastanza semplice no? in generale facciamo un altro esempio per capire come si fa in generale un altro esercizio un po' più complicato se vogliamo avere più radici di moltiplicità alta io potrei prendere u quarto devo prendere le equazioni di grado maggiore ovviamente meno 6 u terzo più 9 u secondo uguale a 0 ok? consideriamo questa equazione differenziale di ordine 4 consideriamo il polinomio associato P di lambda quindi è lambda alla quarta meno 6 lambda cubo più 9 lambda quadro come si fattorizza questo? beh innanzitutto raccolgo lambda quadro e mi rimane lambda quadro meno 6 lambda più 9 questo se ho scelto bene i coefficienti è un quadrato perfetto sì questo è lambda meno 3 al quadrato vediamo lambda meno 3 al quadrato fa lambda quadro meno il doppio prodotto 6 lambda più meno 3 al quadrato fa 9 e quindi qui ho una situazione in cui ho due radici lambda 1 uguale a 0 con molteplicità lambda 1 a molteplicità 2 è questo esponente e poi ho lambda 2 uguale a 3 una seconda radice che ha anche la molteplicità 2 e allora quali sono le 4 devo trovare 4 soluzioni fondamentali 4 funzioni che formano una base di soluzioni allora sono fate attenzione la radice 0 vi da e come funzione esponenziale e alla 0x che vi può sembrare un po' strano ma è un caso diciamo un caso particolare che è molto più semplice in realtà e alla 0x fa 1 quindi se avete la radice 0 l'esponenziale non si vede più vi viene una funzione costante la costante 1 quindi questa è 1 cioè 1 una funzione costante u2 ed è ovvio che le costanti siano soluzioni perché qui ci sono non compare la u in questa equazione e quindi appena prendete una funzione costante già la derivata prima si annulla quindi figuriamoci la derivata seconda la derivata terza la derivata quarta sono tutte nulle quindi è ovvio che le costanti risolvono questa equazione ma non solo le costanti siccome non c'è neanche la derivata prima anche una funzione che a derivata costante si annulla e in effetti noi ci ricordiamo la chiamo u2 chiamiamola u2 che anche x e alla 0x siccome la molteplicità di 0 è 2 io devo aggiungere anche un polinomio di grado 1 e cioè la funzione x è ovviamente una funzione che quando la derivate vi dà una costante e quindi la derivata seconda terza e quarta si annullano e questa è un'altra soluzione della mia equazione e poi c'è una terza soluzione che è legata alla seconda alla seconda radice del polinomio 3 quindi sarà e alla 3x questa è una soluzione e poi una quarta soluzione siccome 3 ha molteplicità 2 ci devo mettere anche x e alla 3x ok quindi queste sono le mie quattro soluzioni che formano una base dello spazio delle soluzioni e quindi la soluzione generale quella che di solito si chiede come risposta ad un esercizio è qual è la soluzione generale dell'equazione cioè qual è quali sono tutte le soluzioni di questa equazione differenziale io devo prendere una combinazione lineare di queste cioè prendo a per 1 più scriviamolo così b per u2 più c per u3 più d per u4 e quindi questo è a per 1 quindi a più b per x più c per e alla 3x più d per x per e alla 3x questo a volte si scrive come a più bx quindi questo è un generico polinomio di grado 1 più e qui si raccoglie c più d x un generico polinomio di grado 1 e alla 3x d'accordo? quindi è molto semplice se avete un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti omogenea le soluzioni sono della forma guardate le radici prendete le esponenziali con coefficienti le radici qui è nascosta ma qui c'è un esponenziale con coefficiente 0 che vi dà 1 prendete l'esponenziale con coefficienti quelle radici lo moltiplicate per un polinomio di grado inferiore alla molteplicità della radice corrispondente quindi qui ho due polinomi di grado 1 perché le molteplicità sono 2 e 2 d'accordo? va bene ci sono domande su questo? in realtà è molto semplice quindi la difficoltà se volete è fattorizzare quel polinomio ok ora dobbiamo vedere quindi sappiamo trattare le radici reali multiple dobbiamo vedere cosa succede se il polinomio se le radici non sono reali noi sappiamo per il teorema fondamentale dell'algebra che qualunque polinomio di grado n si fattorizza con un prodotto di potenze di monomi del tipo lambda meno lambda k e però i lambda k potrebbero essere potrebbero essere numeri complessi allora qual è l'idea che se uno cerca le soluzioni invece che nel campo reale cerca le soluzioni nel campo complesso tutto quello che abbiamo detto è ancora valido quindi facciamo un esempio quindi passiamo alla domanda successiva cosa succede se le radici sono complesse esempio il caso dell'oscillatore armonico se io ho no facciamo un altro caso sto guardando l'oscillatore armonico ce lo lasciamo per dopo poi lo usiamo per l'equazione non omogenee un esercizio è quello che mi avete me lo avete ricordato nelle domande di mercoledì vi ricordate noi abbiamo abbiamo visto che la funzione che ha come derivata lei stessa è la funzione esponenziale e ora lo si capisce questa equazione u' uguale a u è un'equazione lineare omogenea è u' meno u uguale a 0 il polinomio associato è lambda meno 1 la radice è 1 e quindi l'esponenziale con coefficiente 1 è vi da la funzione una base dello spazio di tutte quelle funzioni la cui derivata è identica è uguale a lei stessa abbiamo visto che le funzioni che hanno derivata seconda uguale a loro stesse se vi ricordate queste sono le funzioni iperboliche e le funzioni iperboliche sono effettivamente combinazioni lineari delle funzioni e alla x e e alla meno x in effetti qui ci avete lambda uguale a 1 u' uguale a u questo è lambda quadro meno 1 uguale a 0 e questo è lambda più 1 per lambda meno 1 uguale a 0 le radici sono 1 e meno 1 e quindi le soluzioni sono combinazioni lineari di e alla x e e alla meno x ovvero sono diciamo oltre a e alla x e a e alla meno x che ovviamente hanno derivata loro stesse ci sono le funzioni per esempio iperboliche che si scrivono come la media di e alla x e alla meno x va bene con la derivata quarta u quarto uguale a u trovate seno e coseno e ora ora vedremo insomma come mai seno e coseno entrano in gioco ma è abbastanza chiaro perché derivata quarta uguale a 1 vuol dire lambda alla quarta meno 1 uguale a 0 quindi lambda quadro meno 1 per lambda quadro più 1 uguale a 0 lambda quadro meno 1 uguale a 0 vi danno e alla x e alla meno x lambda quadro più 1 uguale a 0 quindi questo è lambda meno 1 lambda più 1 e qui c'è devo andare nel campo complesso lambda quadro più 1 si fattorizza nel campo complesso qual è quel numero che al quadrato fa 1 meno i al quadrato fa meno 1 e anche meno i al quadrato fa meno 1 quindi questo è lambda più i lambda meno i e quindi questo vi da e e alla x questo vi da e alla meno x questo vi da e alla meno i x e questo vi da e alla i x ma chi sono e chi è e alla x questo è coseno più i seno quindi seno e coseno è anzi in effetti diciamo va bene e alla x è coseno più i seno ma voi anche vi ricordate che seno e coseno sono sono in effetti combinazioni di si possono scrivere come combinazioni lineari di e alla x e e alla meno i x quindi seno e coseno sono l'idea è che seno e coseno sono una base alternativa per lo span di queste funzioni cioè io sto dicendo che lo spazio generato da e alla x e e alla meno x va bene queste sono funzioni a valori reali non ci danno nessun problema ma lo span se io faccio lo spazio generato dalle funzioni e alla i x e e alla meno i x e lo faccio adesso però a coefficienti complessi quindi sto pensando qui c'è una piccola difficoltà bisognerebbe insomma avere dimestichezza con le funzioni a valori complessi e come si fanno le derivate di queste funzioni vi dovete un po' fidare si fanno esattamente le regole di derivazione sono esattamente le stesse delle funzioni delle corrispondenti funzioni reali e si trattano esattamente allo stesso modo le verifiche sono banali ma in qualche modo quindi noi adesso andiamo un po' così per intuito e quello che vi sto dicendo è che lo spazio generato da queste due funzioni complesse è lo stesso spazio generato dalle funzioni reali seno di x e coseno di x perché è perché e alla x è combinazione lineare di seno e coseno e alla x è coseno di x più i seno di x è una combinazione lineare a coefficienti complessi è coseno coseno di x più i seno di x quindi questo vettore è combinazione lineare di questi due e e alla meno x pure questo è coseno di x meno i seno di x e quindi anche questo vettore è combinazione lineare di questi due vuol dire che questi due vettori sono una base d'accordo? perché se ogni vettore dello spazio si può scrivere questo span sono le combinazioni lineari di questi due vettori e quindi lo spazio generato da questi due vettori sono le combinazioni lineari di questi due vettori ma se questi due vettori a loro volta si scrivono come combinazioni lineari di seno e coseno vuol dire che ogni vettore di questo span si scrive come combinazione lineare di seno e coseno Quindi questo è in effetti una dimostrazione di algebra lineare del fatto che seno e coseno sono una base alternativa dello stesso spazio. E qual è ora il vantaggio di usare seno e coseno? E' che questo significa che facendo lo span complesso di seno e coseno ottengo tutte le soluzioni complesse. Ma siccome le funzioni seno e coseno sono reali, se io faccio lo span reale ottengo tutte le soluzioni reali. Ok? Quindi se io voglio le soluzioni complesse posso fare combinazioni lineari a coefficienti complessi di seno e coseno oppure di e alla i x e e alla meno x. Ottengo la stessa cosa. Ma se io voglio le soluzioni reali queste le trovo facendo combinazioni lineari a coefficienti reali di queste due funzioni seno e coseno che sono funzioni reali. Ok? Questo è un po' quello che sta dietro, diciamo, come mai seno e coseno compaiono nelle equazioni differenziali. Il motivo è che sono, se volete, la proiezione sulla parte reale dell'esponenziale complesso. E quindi vi danno delle funzioni reali, le cui combinazioni lineari reali vi danno tutte le soluzioni, tutti i vettori reali, quindi le soluzioni reali dell'equazione differenziale. D'accordo? Quindi le equazioni differenziali in campo complesso si risolvono esattamente allo stesso modo. In campo complesso il campo complesso è algebricamente chiuso, quindi il polinomio si fattorizza. E però, se io sono interessato alle funzioni reali, devo sostituire le combinazioni lineari, degli esponenziali complessi, con combinazioni lineari di funzioni trigonometriche, quindi seno e coseno. Allora, la domanda è, per esempio, qual è quella domanda che vi avevo lasciato all'inizio dell'anno, all'inizio dell'anno, insomma metà anno, proviamo a risolvere u terzo uguale u. Cioè, ci sono delle funzioni reali che hanno la proprietà che la loro derivata terza è uguale a loro stesse, e questo non è così facile da trovare senza aver fatto le equazioni differenziali. Allora questo significa u terzo meno u uguale a zero, quindi il polinomio associato è lambda cubo meno uno. E come si fattorizza questo polinomio? Sicuramente lambda uguale a uno è una soluzione, poi trovate, vi rimane, un polinomio di secondo grado che potete risolvere. Avrà discriminante negativo, perché uno è l'unica soluzione reale, ovviamente, lambda cubo uguale a uno ha un'unica soluzione reale, che è lambda uguale a uno, e avrà due soluzioni complesse coniugate che si ottengono dalla formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Se il delta è negativo, la radice di delta si può fare in campo complesso, vi darà più o meno radice di delta, vi darà più o meno i la radice di meno delta, e quindi trovate le radici complesse. Se volete provate a farlo, questo è lambda meno uno per lambda quadro più lambda più uno, questo è un prodotto notevole, e questo polinomio ha discriminante negativo, però potete trovare le radici complesse. Ma un modo un po' più ovvio, un po' più evidente di trovare queste radici, è il fatto che z cubo, io sto cercando di risolvere z cubo uguale a uno, ma noi l'abbiamo visto, quali sono le soluzioni di questa equazione? z cubo uguale a uno ha come soluzione dei numeri complessi di modulo uno, perché il modulo al cubo è il modulo di uno, quindi è uno, quindi sono dei punti sulla circonferenza unitaria, uno di questi punti è il punto uno, che sappiamo che è soluzione. In generale, se voi cercate di risolvere z alla n uguale c, con c qualunque numero complesso, è un fatto generale, l'abbiamo visto un po' velocemente, ma l'abbiamo visto, che le soluzioni stanno sui vertici di un poligono regolare di n lati, centrato nell'origine e di raggio la radice ennesima di c. In questo caso, le soluzioni stanno sulla circonferenza unitaria, centrata nell'origine, e sono i vertici di un triangolo equilatero, quindi un vertice lo conosciamo e in uno gli altri due saranno questi. Quindi io immediatamente, la potreste risolvere questa equazione, ma io immediatamente so quali sono le tre, diciamo, so quali sono le due soluzioni complesse. Quella reale l'ho vista, le altre due complesse, ora lo so chi sono, quindi la soluzione reale, λ1 è uguale a 1, le soluzioni λ2 e λ3 sono, ok, questo angolo sono 120 gradi, quindi il coseno è meno 1, è meno un mezzo, meno un mezzo più o meno i, il seno è radice di tre mezzi. Ok? Sto guardando le coordinate di questi punti, sono i vertici di un triangolo equilatero, sono seno e coseno di 120 gradi e seno e coseno di 240 gradi. D'accordo? Quindi le tre radici sono queste. Ora, è un fatto generale che se io ho un polinomio a coefficienti reali, ci possono essere delle radici complesse, ma le radici complesse sono a due a due complesse coniugate. L'avevamo già visto, vi ricordate quando abbiamo fatto la decomposizione in fratti semplici? In effetti, anche qui è un fatto algebrico simile a quello. Ok? E quindi, le soluzioni complesse quali sarebbero? Io avrei u1 uguale e alla x, e alla λ1x, e alla 1x, cioè e alla x è ovviamente una soluzione, la funzione esponenziale ha come derivata terza l'esponenziale, e quindi è soluzione di questa equazione, e poi ho u2 sarebbe e alla λ2, quindi meno un mezzo più o meno i radici di tre mezzi, x, e u3 sarà e alla meno un mezzo, scusate, questo cerco il più, e alla meno un mezzo meno i radici di tre mezzi, x. Queste sono soluzioni, però sono soluzioni complesse. Come faccio a scrivere, a trovare le soluzioni reali? E questa è una cosa che dovete fare, ma se volete basta ricordarsi quello che succede alla fine. Cosa succede? Questo è l'esponenziale di una somma, è il prodotto degli esponenziali, quindi questo è e alla meno x mezzi, e alla i radici di tre mezzi x, questo è e alla meno i radici di tre mezzi x, ok? L'esponenziale di una somma è il prodotto degli esponenziali, e questo è e alla meno x mezzi, questo è coseno di radici di tre mezzi x, più i seno di radici di tre mezzi x. La formula di Gauss, importantissima per l'esponenziale complesso, quando l'esponente è immaginario o puro, e qui viene e alla meno x mezzi, coseno di radici di tre mezzi x, più, anzi, meno, meno i seno di radici di tre mezzi x. Allora, quel fatto generale che vi ho detto prima, è vero che io potrei scrivere tutte le soluzioni complesse come combinazioni complesse di queste due soluzioni, ma io voglio scriverle come combinazioni complesse di funzioni reali. E quali saranno le funzioni reali? Saranno v2 e v3, cioè io scelgo una nuova base, e quali saranno e alla meno x mezzi coseno di radici di tre mezzi x, e alla meno x mezzi seno di radici di tre mezzi x. Perché scelgo queste funzioni? Perché queste sono funzioni reali, ok? Per ogni x reale assumono un valore reale, e le loro combinazioni, diciamo lo span di queste due funzioni, le combinazioni lineari di queste due funzioni, generano, cioè queste due funzioni generano lo stesso spazio generato da u2 e u3, perché u2 e u3 sono in effetti combinazioni lineari di queste due funzioni. Quindi tutte le soluzioni reali sono della forma u di x uguale, quindi un multiplo di u1, prima lo scrivo così, a u1 più b v2 più c v3, ok? Uso v2 e v3 perché queste sono soluzioni reali. Se ci mettessi u2 e u3 e se ci mettessi coefficienti complessi, otterrei tutte le soluzioni complesse, che in certi casi vi sarà utile. Per esempio, in realtà, nella meccanica quantistica, le funzioni d'onda sono complesse, quindi in quel caso seno e coseno potrebbe non essere la scelta più naturale, uno naturale che rimanga con l'esponenziale complesso, perché è interessato alle soluzioni complesse, ma noi siamo interessati invece alle soluzioni reali. Se vogliamo vedere delle oscillazioni, un'equazione di un moto armonico, siamo abituati a vederle usando le funzioni seno e coseno, quindi se vogliamo sapere quali sono le soluzioni reali, dobbiamo scriverle in questa forma, e quindi abbiamo a e alla x più b e alla meno x mezzi coseno di radice di tre mezzi x più c e alla meno x mezzi seno di radice di tre mezzi x. E questo si può scrivere, anzi spesso si scrive in questa forma, si raccoglie e alla meno x mezzi, la parte reale, e qui rimane b coseno di radice di tre mezzi x più c seno di radice di tre mezzi x. Queste sono tutte le soluzioni, tutte le soluzioni reali. In realtà, quindi, se a, b e c sono coefficienti reali, ottenete tutte le soluzioni reali. Se a, b e c sono coefficienti complessi, ottenete tutte le soluzioni complesse. Ma le soluzioni complesse potevate scriverle usando l'esponenziale complesso, forse era più semplice. Ok? Ditemi se questo è chiaro, perché questo è decisamente importante. Ok? Questa parentesi, voi a volte la scrivete in questa forma, questo è coseno, questo è ρ coseno di radice di tre mezzi x più fi. È un altro modo per scrivere la stessa cosa, cioè una combinazione lineare di seno e coseno con la stessa pulsazione, mi pare che si chiami così questo coefficiente. questo sarebbe quello che voi chiamate ω. Questa radice di tre mezzi sarebbe l'omega, la velocità angolare, la pulsazione della vostra oscillazione. Allora, in combinazione lineare di seno e coseno, come si può scrivere? Se voi prendete ρ la radice di b quadro più c quadro, raccogliete ρ, quindi dividete b e c per la radice di b quadro più c quadro, e allora vi diventano dei seni e coseni. Allora, b diviso la radice di b quadro più c quadro, e c diviso la radice di b quadro più c quadro, sono coseno e seno di un certo angolo fi. Questo sarà un coseno di fi, e questo sarà un seno di fi. Perché avendoli divisi per questa radice, quando ne faccio la somma dei quadrati, vi viene uno. E quindi, e quindi, insomma, vabbè, insomma, questo ve lo vedete per conto vostro, perché vi servì, lo usate spesso a fisica, si può scrivere anche in questa forma. Cioè, la combinazione lineare di seno e coseno con la stessa pulsazione sono una sinusoide, formano come grafico una sinusoide di una certa ampiezza, che sarà la radice di b quadro più c quadro, e una certa fase, fi, quindi la sinusoide traslata. Non sarà un seno, non sarà un coseno, ma sarà una traslazione fi intermedia. D'accordo? In ogni caso, i coefficienti, il numero di parametri è lo stesso. Qui avete due parametri, b e c, e qui avete due parametri, ρ e fi, che sono arbitrari. Sì, dunque, vedo una mano alzata, solo che non riesco a capire chi è. Sì, prego, prego, sì. Potrebbe ripetere un attimo, chi è che abbiamo fatto quel caso di Maria Pellini, non ho capito. Quest'ultimo? Sì. Questo è perché... No, no, non quello, proprio, quello che c'è, le soluzioni reali. Eh, perché se io, se io prendessi U2, U3, cioè io in effetti potrei anche dire che le soluzioni di questa equazione differenziale sono U di X, però queste sono soluzioni complesse. In campo complesso, in campo complesso, la cosa è molto più semplice in realtà. In campo complesso le soluzioni, cioè si usa sempre lo stesso metodo, quello che abbiamo usato la volta scorsa. U di X è A e alla X più B e alla meno un mezzo più i radici di tre mezzi X più C e alla meno un mezzo meno i radici di tre mezzi X. Quindi da principio cercavamo solo radici reali per esempio le complesse? Cioè noi siamo interessati siccome stiamo trattando facciamo l'analisi delle funzioni reali quando risolviamo un'equazione differenziale è sottointeso che si intende che noi dobbiamo trovare le soluzioni reali e quello che abbiamo fatto anche nei casi precedenti in effetti. Quello che succede è che per trovare le soluzioni reali è comunque è utile passare dal campo complesso perché è vero che ci sono cioè queste sono soluzioni reali nonostante che il polinomio associato a questa equazione non abbia tutte le soluzioni reali quindi nonostante il polinomio non abbia soluzioni reali siccome io so che un polinomio ha coefficienti reali può avere delle radici complesse ma queste radici complesse sono a due due complesse coniugate mettendo assieme le radici complesse coniugate riesco a scrivere comunque le soluzioni usando le funzioni reali seno e coseno che sono appunto combinazioni combinazioni di due numeri complessi coniugati quindi se io volessi tutte le soluzioni in campo complesso la cosa sarebbe più semplice le cose complesse sono in realtà più semplici questo è un fatto abbastanza generale perché il campo complesso è algebricamente chiuso se invece voglio avere le soluzioni reali devo fare un po' di fatica in più ma se volete una volta diciamo una volta che l'avete capito poi meccanicamente dal punto di vista risolutivo è una banalità semplicemente avete questa regola che le soluzioni reali sono esponenziale quando avete delle radici complesse dovete prendere l'esponenziale della parte reale e alla meno un mezzo x sarebbe l'esponenziale corrispondente alla parte reale e poi per la parte complessa per la parte immaginaria prendete coseno e seno con coefficiente la parte immaginaria quindi meno un mezzo era la parte reale della radice radice di tre mezzi la parte immaginaria la parte immaginaria va usata con seno e con coseno e vanno se c'è un seno c'è anche un coseno perché se c'è una radice c'è anche la complessa coniugata e io uso entrambi seno e coseno quindi diciamo dal punto di vista della metodologia risolutiva è banale se l'ho imparata a memoria la giustificazione non è difficile è semplicemente dovuta al fatto che io ho uno spazio vettoriale complesso mi interessa la parte reale di questo spazio vettoriale complesso concetto che sarebbe un po' complicato ora dirvi in generale ma ve lo immaginate insomma che cos'è la parte reale di uno spazio vettoriale complesso non so se l'avete vista geometria il fatto sta che se io trovo una base di uno spazio vettoriale complesso i cui vettori hanno tutte le coordinate reali questo è possibile perché io faccio combinazioni a coefficienti complessi di numeri reali ottengo numeri complessi quindi se io trovo una base di vettori reali di uno spazio complesso quella base di vettori reali sarà la base della parte reale di quello spazio quindi va bene insomma in astratto può essere un po' complicato ma è quello che abbiamo visto qui in concreto le soluzioni reali si ottengono da quelle complesse sostituendo gli esponenziali complessi con segni e coseni quindi in questo modo qui d'accordo e facciamo un altro prego facciamo un altro esempio per vedere cosa succede se le radici complesse hanno molteplicità maggiore di 1 ovviamente siccome una radice complessa si porta dietro anche la complessa coniugata se ha molteplicità maggiore di 1 una radice complessa anche la complessa coniugata ha molteplicità maggiore di 1 quindi stiamo già parlando di equazioni di ordine 4 perché avrei già 4 radici quindi è abbastanza inusuale che vi troviate di fronte a radici complesse con molteplicità maggiore di 1 però in realtà non c'è niente di complicato solo che l'esempio richiede un'equazione di quarto grado è per esempio questa u quarto più 2 u secondo più u uguale a 0 qui il polinomio associato è lambda la 4 più 2 2 lambda quadro più 1 uguale a 0 e cioè questo è un quadrato perfetto lambda quadro più 1 al quadrato e quindi quali sono le radici di questo come si decompone questo lambda quadro più 1 sarebbe lambda più i per lambda meno i tutto il quadrato ho due radici complesse di molteplicità 2 ovrei lambda 1 uguale i molteplicità 2 e lambda 2 uguale meno i molteplicità 2 d'accordo allora io dico niente di che quali sono tutte le soluzioni io posso dirvi direttamente chi sono le soluzioni ora diciamolo direttamente poi se volete vediamo come ci si può arrivare ma semplicemente io so che le soluzioni io devo prendere gli esponenziali che corrispondono a queste radici che in questo caso però sono complesse e quindi quali sarebbero sarebbero combinazioni di seno e coseno perché i no? i mi dà proprio un seno puro non c'è l'esponenziale perché la parte reale è nulla meno i mi dà il coseno ok? questo mi darebbe e i sarebbe 0 più i quindi sarebbe e alla 0x e qui ci dovrei mettere cioè quando le metto assieme vanno messe assieme queste no? queste due radici quando le metto assieme ottengo e alla 0x per coseno di x e e alla 0x per seno di x e quindi ottengo coseno di x e seno di x ok? le devo mettere assieme perché in realtà i mi darebbe coseno di x più i seno di x meno i mi darebbe coseno di x meno i seno di x ma se prendo le combinazioni se le metto assieme tutte le combinazioni lineari ottengo combinazioni lineari di coseno e seno semplicemente queste le dovevo anche moltiplicare per un generico polinomio di grado minore di 2 e quindi le soluzioni oltre a seno e coseno quindi coseno e seno ci sono a coseno di x più b seno di x più ci devo mettere anche x coseno di x quindi cx coseno di x più dx seno di x ok niente di di complicato come prima se c'è una molteplicità ci devo mettere anche le potenze di x con esponente minore della molteplicità quindi in questo caso qui c'è x alla 0 x alla 0 x alla 1 x alla 1 alla fine devo sempre ottenere la cosa diciamo la verifica ottenete sempre un numero di coefficienti che è pari al grado dell'equazione quindi equazione di ordine 4 4 parametri liberi d'accordo? questo non non capiterà molto spesso perché l'equazione deve avere almeno ordine 4 per avere due radici complesse di moltiplicità 2 e quindi immagino che questo capiti molto raramente quindi però non ha non c'è nessuna difficoltà in realtà non c'è nessuna difficoltà quindi è bene non spaventarsi se dovesse capitare una cosa del genere non succede niente di particolare allora devo andare un po' velocemente se voglio dirvi tutto perché mancano ancora le equazioni non omogenee ok le equazioni omogenee a coefficienti costanti le sappiamo risolvere cioè la soluzione si scrive immediatamente una volta che avete fattorizzato il polinomio caratteristico dell'equazione come si fa con le equazioni non omogenee le equazioni non omogenee sono l di u uguale b dove l è un polinomio applicato all'operatore derivata quindi se prima avevamo l di u uguale a 0 ora abbiamo l di u uguale a b e abbiamo detto in generale le soluzioni le soluzioni possiamo dire immediatamente che le soluzioni sono della forma u di x uguale u 0 di x più u asterisco di x dove u 0 è una qualunque soluzione della omogenea cioè diciamo qualunque tutte le soluzioni dell'omogenea tutte le soluzioni dell'omogenea che sarebbe l di u uguale a 0 e che sappiamo trovare è quello che abbiamo fatto finora quindi in qui dentro in questo pezzo qui ci saranno i quattro parametri tutti i parametri diciamo variabili della mia equazione referenziale sono qui dentro quei a b c quei parametri variabili e quindi questo mi descrive lo spazio vettoriale di dimensione della dimensione giusta dimensione è l'ordine dell'equazione e poi lo devo traslare perché se l'equazione non è omogenea la soluzione non è uno spazio vettoriale è uno spazio lineare affine cioè devo traslare le mie soluzioni sommando una soluzione particolare della non omogenea ok qui io mentalmente ho sempre in mente questo disegno non so se vi è utile qui ci sono le soluzioni ker l sono le soluzioni dell'omogenea e le soluzioni della non omogenea sono uno spazio parallelo a questo questo è l di u uguale b e come si trova siccome so che è parallelo al nucleo basta trovare un qualunque qui u u asterisco una soluzione particolare della non omogenea e io sommo a prendo il kerl e lo sposto cioè lo 0 va in ustar e tutto lo spazio si sposta e mi da tutto lo spazio viola d'accordo questo è un fatto diciamo è una banalità in realtà ma è abbastanza profondo come fatto e quindi tutto si riduce a trovare una una sola soluzione della non omogenea ne basta trovare una perché poi tutte le altre si ottengono sommando le soluzioni dell'omogenea d'accordo e allora vi avevo anticipato che ci sono due metodi primo metodo quindi devo trovare una soluzione particolare cioè cosa vuol dire una soluzione particolare una qualunque almeno una soluzione che qui ho chiamato ustar primo metodo la somiglianza metodo di somiglianza faremo due metodi il primo metodo è molto più semplice ma si applica solo in certi casi solo in casi particolari il secondo metodo è più complicato ma è generale quindi il secondo metodo spero di riuscire a farvelo ora ma si potrebbe usare sempre il secondo metodo solo che se siete in una situazione particolare potrebbe essere un po' più lungo anzi a volte parecchio più lungo e quindi secondo me conviene iniziare provare prima il metodo di somiglianza se è possibile utilizzarlo il metodo di somiglianza si basa su questa osservazione osservazione abbiamo visto prima che se io faccio di meno lambda di un di una funzione del tipo polinomio per esponenziale ottengo la derivata del polinomio per l'esponenziale questo fatto curioso ora ci chiediamo cosa succede se io faccio di meno lambda di polinomio per esponenziale ma il coefficiente dell'esponenziale non è lambda è diverso da lambda mu diverso da lambda ok io faccio di meno lambda ma la funzione è polinomio per esponenziale ma l'esponenziale è un coefficiente che non è lambda è diverso da lambda beh lo possiamo fare come prima questo è uguale a q di q' di x e alla mu x più q di x mu e alla mu x meno lambda q di x e alla mu x e quindi questo che cos'è raccolgo e alla mu x quindi la mia funzione rimane polinomio per esponenziale l'esponenziale rimane lo stesso il polinomio cambia invece di essere q diventa e cosa diventa mu meno lambda q più q' di x ok se mu fosse uguale a lambda questo termine si cancellerebbe e verrebbe q' quindi ritorniamo al caso precedente quindi se mu è uguale a lambda il polinomio a moltiplicare cala cala di grado perché viene derivato ma se mu è diverso da lambda questo polinomio ha lo stesso grado questo lo chiamiamo q tilde di x e alla mu x quello che succede è che il polinomio il grado di q tilde è certamente uguale al grado di q perché io prendo q lo moltiplico per mu meno lambda che è diverso da 0 e quindi questo è un polinomio di grado n ci sommo un polinomio di grado n meno 1 beh questo non può far diminuire il grado perché il coefficiente il termine di grado massimo rimane lo stesso ok il termine di grado massimo di q tilde il coefficiente del termine di grado massimo è mu meno lambda a volte il coefficiente del termine di grado massimo di q e quindi se era diverso da 0 rimane diverso da 0 vuol dire che il grado non cala d'accordo questo vuol dire che l'operatore l'operatore di meno lambda sui polinomi con coefficiente lambda scusate sulle funzioni diciamo se noi chiamiamo v lambda l'insieme di tutte le funzioni della forma q di x e alla lambda x con q con q polinomio di grado qualunque in effetti q polinomio questo è uno spazio vettoriale ok se sommate due funzioni di questo tipo raccogliete e alla lambda x e quindi rimane una funzione dello stesso tipo allora d meno lambda d meno lambda manda v lambda in v lambda ma se l'ho applicato abbastanza volte va a 0 è un operatore come si dice nil potente sarebbe il corrispondente di una matrice triangolare dopo un certo numero di applicazioni di meno lambda alla m di qualunque elemento di questo spazio di qualunque v è uguale a 0 se m è maggiore del grado maggiore o uguale direi del grado di v invece se voi fate d meno lambda sullo spazio v mu in v mu e beh questo è un operatore e bigettivo diciamo e iniettivo perché siccome il polinomio a moltiplicare mantiene il grado non potrà mai diventare 0 se non era già 0 il nucleo di d meno lambda su questo spazio v mu è 0 perché per ottenere per ottenere 0 cioè per ottenere il polinomio 0 il polinomio doveva già essere 0 perché altrimenti se il polinomio non è 0 il suo grado si mantiene e quindi il polinomio se q non è 0 anche q tilde non è 0 quindi questo è iniettivo ma un operatore iniettivo questo è un spazio di dimensione finita scusate non è di dimensione finita però su ogni sottospazio di dimensione finita questo è bigettivo cioè se io prendo i polinomi di grado minore di n questo è uno spazio se io qui ci metto anche un n diciamo q polinomio di grado minore di n tutto questo rimane valido e questo è uno spazio di dimensione n un operatore iniettivo su uno spazio di dimensione n in uno spazio di dimensione n è anche suriettivo e quindi è un isomorfismo lineare ho tutta questa questa osservazione astratta per dire che cosa per dire che cosa quindi se io ho questa equazione quindi se io ho pd di u uguale sto cercando di trovare una soluzione di questa equazione non omogenea e pd si fattorizza questo è d meno lambda 1 alla m1 d meno lambda 2 alla m2 fino a d meno lambda k alla mk di u se la funzione b è della forma polinomio per esponenziale ora il polinomio lo chiamo r non voglio usare né p né q lo chiamiamo r e alla mu x se mu è diverso da lambda k per ogni k ok quindi vi sto dicendo un caso particolare se b il termine noto è della forma polinomio per esponenziale e se il coefficiente dell'esponenziale è diverso da tutti questi coefficienti io so che esiste un q polinomio q tale che una funzione non è una soluzione particolare si scrive della forma q di x e alla mu x con il grado di q minore uguale del grado anzi direi uguale al grado di r perché sto dicendo questo perché ognuno di questi operatori l'abbiamo visto prima d meno lambda k ognuno di questi è un isomorfismo dello spazio delle funzioni polinomio per esponenziale e mantiene diciamo modifica il polinomio ma ne mantiene il grado quindi vuol dire che se io prendo una funzione di questo genere applico questi operatori ottengo una funzione di questo genere p d di u star di x p d di u star diciamo sarà uguale a un q tilde di x e alla mu x questo q tilde non so non so come è fatto però so che io ottengo tutti i possibili polinomi dello stesso grado al variare di q li ottengo tutti quindi sono sicuro che posso trovare una soluzione di questa forma ok e questo è il metodo di somiglianza si chiama metodo di somiglianza perché se se il termine noto è di questa forma polinomio per esponenziale io cerco una soluzione particolare una forma che gli somiglia polinomio per esponenziale il polinomio potrà essere diverso ma avrà a grado avrà lo stesso grado ora si capisce meglio con un esempio esempio se io voglio risolvere u secondo più u uguale e alla meno x mettiamoci tutte le x u secondo di x più u di x uguale e alla meno x u secondo di x più u di x uguale a 0 è l'equazione del moto del moto armonico quindi pensate alla molla con una costante elastica pari a 1 qui forse ci sarebbe un k un k quadro un k ma diciamo a noi non interessa più di tanto e se ci metto invece che uguale a 0 ci metto uguale e alla meno x questo e alla meno x si interpreta come una forza perché all'accelerazione quindi l'accelerazione è uguale a meno la posizione meno k u vuol dire che c'è una forza di richiamo e in più c'è una forza e alla meno x che dipende dal tempo perché x è il tempo in queste equazioni quindi c'è un richiamo una cosa un po' strana non so se ha senso fisicamente un richiamo esponenziale beh siccome siccome qui l'operatore qual è il polinomio p di lambda è lambda quadro più 1 quindi l'operatore è d più i per d meno i di u io so quello che ho detto prima rimane vero esattamente allo stesso modo quando gli esponenziali sono esponenziali complessi e quindi siccome il coefficiente che c'è qui davanti questo meno 1 qui c'è mu uguale a meno 1 il termine noto è polinomio per esponenziale l'esponenziale è il coefficiente meno 1 siccome meno 1 non è radice del polinomio quindi come si fa a sapere se mu è una delle radici basta in realtà calcolare p di mu p di mu è diverso da 0 quanto fa p di mu p di meno 1 è meno 1 al quadrato 1 più 1 2 quindi questo fa questo è meno 1 al quadrato più 1 è uguale a 2 è diverso da 0 significa che mu non è radice del polinomio caratteristico dell'equazione significa che posso usare il metodo di somiglianza quindi cerco una soluzione particolare u di x della forma polinomio dello stesso grado qui qual è il grado del polinomio che c'è qui davanti questo è 1 è un polinomio di grado 0 quindi un altro polinomio di grado 0 è una costante qualunque e alla meno x ci devo mettere la costante perché la soluzione e alla meno x potrebbe non essere soluzione di questa equazione anzi direi che banalmente non lo è perché se ci metto e alla meno x quanto fa se ci metto e alla meno x mi viene e la derivata seconda è meno e alla meno x meno meno e alla meno x quindi è e alla meno x più e alla meno x questo è uguale a 2 e alla meno x ma in effetti volendo avendo fatto questo tentativo è chiaro che c è uguale a un mezzo perché se ci metto e alla meno x mi viene 2 e alla meno x ma l'equazione lineare quindi vale la proprietà di sovrapposizione diciamo vale la linearità quindi se ci metto un mezzo e alla meno x ottengo la soluzione ma questo non è il metodo generale il metodo generale il metodo generale è io so che c'è una soluzione di questa forma semplicemente prendo questa funzione la butto nell'equazione scrivo l'equazione u star secondo più u star e impongo che e vedo cosa avviene devo imporre che l'equazione che u risolva l'equazione quindi impongo che valga questo impongo l'uguaglianza per trovare c per trovare il polinomio c che sarebbe il polinomio q di x in questo caso un polinomio costante e quindi faccio u secondo faccio prima u primo di x in questo caso è tutto molto semplice ma in generale la cosa può essere un po' più laboriosa la derivata prima è meno c e alla meno x la derivata seconda è meno per meno fa più c alla meno x e quindi quando io risolvo scrivo l di u l di u star chi è? è u star secondo più u star quindi è c e alla meno x più e più c e alla meno x ok la derivata seconda in effetti è uguale alla funzione stessa e questo viene 2c e alla meno x impongo l'uguaglianza 2c e alla meno x deve essere uguale a e alla meno e alla meno x ok questo è il termine noto b e questo mi dice che c è uguale a un mezzo quindi u star ho trovato il polinomio è un mezzo e alla meno x sapevo che ci doveva essere e alla meno x per quel fatto generale ho trovato qual è il polinomio a moltiplicare e quindi la soluzione generale come si scrive? devo scrivere tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata e sono seno e coseno a coseno di x più b seno di x più la soluzione particolare un mezzo e alla meno x d'accordo ora devo andare vorrei farvi proprio per potervi dare gli esercizi nel fine settimana vorrei farvi anche l'ultimo metodo quindi no in realtà non ce la faccio perché vi devo far vedere vi devo far vedere ma insomma vediamo vi devo far vedere un altro caso cioè questo è il caso più semplice il caso in cui mu non è non è una radice del mio polinomio ma cosa succede cosa succede se mu se mu è radice del polinomio vediamo se ho l'esempio esempio u secondo ah ecco questo è proprio prendiamo sempre l'esempio di prima però stavolta ci metto ci metto anche il coefficiente omega quadro u e cosa succede se io qui ci metto coseno di omega x allora innanzitutto il coseno non è esattamente un esponenziale ma l'idea è che il coseno di omega x è e alla i omega x che cos'è è più e alla meno i omega x fratto 2 allora in generale se io devo trovare una soluzione particolare di nuovo il principio di sovrapposizione se io ho un operatore lineare e devo trovare una soluzione una soluzione particolare di b1 più b2 se io devo trovare una soluzione particolare in cui il termine forzante è una somma di due termini io basta che trovo u1 diciamo u1 asterisco che risolve b1 u2 asterisco che mi dà il termine b2 e faccio la somma di 2 sarà uguale a b1 più b2 ok quindi il metodo metodo che vi ho appena detto vale se il termine noto è un polinomio per esponenziale beh ovviamente vale anche se il termine noto è un polinomio per esponenziale più un altro polinomio per un altro esponenziale eventualmente con un coefficiente diverso basta che prendo che risolvo separatamente i due casi e poi li sommo quindi se ho un coseno io potrei potrei applicare il metodo separatamente ai due casi il problema è che omega e meno omega sono soluzioni di questa equazione qui il polinomio P di lambda è lambda quadro più omega quadro omega è una costante no? è la frequenza la pulsazione insomma del vostro moto armonico e scusate i omega se al posto di lambda ci metto i omega lambda quadro è i quadro omega quadro ma i quadro fa meno 1 e quindi P di i omega è uguale a 0 e lo stesso P di meno i omega è uguale a 0 se qui ci fosse se qui ci fosse un omega primo diverso se qui ci fosse un come lo chiamiamo un theta x con theta diverso da omega io andrei a cercare semplicemente tra combinazioni lineari di questi due esponenziali con al posto di omega ci dovrei mettere theta e quindi quali sono le combinazioni di questi esponenziali sono seno e coseno d'accordo? facciamolo se volete qui se io avessi se io avessi u come prima u secondo più u uguale a coseno di appunto mettiamoci 2x cerco una soluzione in che forma? una soluzione del tipo ora io so che il coseno è combinazione di e alla 2i x e di e alla meno 2i x e quindi dovrò cercare soluzioni che sono combinazioni di quelle due funzioni esponenziali cioè saranno combinazioni di coseno di 2x e però ci devo aggiungere anche il seno di 2x ok diciamo qual è la regola generale se ho un coseno io il metodo di somiglianza mi dice che io devo cercare una funzione qui c'è polinomio per coseno devo cercare una soluzione che sia polinomio per coseno beh non basta ci devo mettere anche il seno corrispondente polinomio per seno perché seno e coseno si mescolano tra loro sono due aspetti diciamo sono le due radici mescolate assieme ok quindi facciamo prima se volete questo esercizio ma l'abbiamo fatto si cerca una soluzione di di questa forma ne faccio le derivate u' di x sarà meno 2a seno di 2x più 2b coseno di 2x faccio la derivata seconda e viene meno 4a coseno di 2x più 4b coseno di 2x ok sto risolvendo questa equazione cioè sto cercando una soluzione particolare di questa equazione e sostituisco nell'equazione quindi scrivo u star secondo più u star questo quanto fa è meno 4 coseno più a coseno quindi viene meno 4a più a fa meno 3a coseno di 2x più 4b no qui ho sbagliato qui c'è meno devo derivare 2b coseno di 2x quindi esce un 2 viene 4b la derivata del coseno è meno seno e quindi qui viene meno 4b seno più b seno fa meno 3b seno e questo deve essere uguale al coseno di 2x ok il coseno di 2x è questo e quindi quando è che una combinazione di seno e coseno è uguale al coseno è quando b è uguale a 0 b uguale a 0 e meno 3a deve essere uguale a 1 quindi la soluzione particolare è a uguale a meno 1 terzo quindi questo mi dice che a uguale a meno 1 terzo b uguale a 0 ma la soluzione era a coseno di 2x b seno di 2x e quindi qui viene meno 1 terzo coseno di 2x ok in questo caso effettivamente la funzione viene un coseno viene un coseno è giusto questo sì viene un coseno come era un coseno ma perché questo è di grado di ordine 2 cioè diciamo fidatevi che in generale io devo devo metterci anche il seno ok devo fare combinazioni di seno di seno e coseno se ci fossero dei coefficienti diversi potrebbe venirmi diversamente e quindi ho trovato una soluzione particolare la soluzione generale è soluzione generale dell'equazione omogenea ora uso a e b ma sono non c'entrano niente con quelle che ho scritto prima sono a sempre la stessa nell'equazione omogenea sappiamo che le soluzioni sono seno e coseno quindi a coseno di x più b seno di x più soluzione particolare della non omogenea quindi meno un terzo coseno di 2x ok qui siamo sempre nel caso in cui l'esponenziale del termine noto non interferisce cioè in certo senso è indipendente dalla dalla frequenza del sistema non interferisce con le radici del polinomio caratteristico allora facciamo l'ultimo caso e purtroppo mi rimane mi rimane fuori il secondo metodo e lo vedremo lunedì a questo punto e cioè la domanda rimane questa non abbiamo ancora risposto cosa succede se mu è radice del polinomio beh l'idea è che quindi ripeto la domanda se p di mu è uguale a 0 cosa succede che io ho un d meno lambda 1 alla m1 d meno lambda k alla mk di u uguale no e qui ho il mio r di x e alla mu x se p di mu è uguale a 0 significa che mu è una di queste radici diciamo che mu per esempio potrebbe essere uguale a lambda k d'accordo allora se mu è uguale a lambda k questo operatore questo operatore se io prendo una funzione dello stesso genere io prendo una funzione u asterisco che sarà polinomio q di x per e alla mu x però in questo caso purtroppo di quanto fa di meno mu alla m applicato a questo a questa funzione abbiamo detto che mi dà la derivata emesima mi dà la derivata emesima quindi mi dà q m di x e alla mu x e quindi questo pezzo dell'operatore quello che corrisponde alla radice mu mi fa calare il grado del polinomio di tanti di tanti gradi diciamo di tanti passi quanto è la molteplicità di quella radice nel polinomio e però tutti gli altri invece non fanno niente tutti gli altri mantengono mantengono il grado del polinomio quindi semplicemente l'idea è che scelgo devo scegliere un polinomio q che abbia grado maggiore di r perché io so già che calerà di grado e in realtà basta scegliere invece che prendere q di x e alla mu x io prendo q di x per x alla m e alla mu x dove m m è la molteplicità di mu come radice di p di lambda ok? perché questo va bene? perché io so che l'operatore d meno lambda d meno mu alla m mi eliminerà questo x alla m farà calare il grado m volte e quindi mi rimarrà un polinomio del grado giusto cioè in effetti basta scegliere con il grado di q uguale al grado di r quindi q dello stesso grado però la moltiplico per x alla m quindi in realtà ho un polinomio di grado più alto e che si abbasserà esattamente al grado giusto per avere la soluzione d'accordo? quindi questo in realtà è il fatto generale perché questo si applica se mu non è radice del polinomio allora semplicemente m uguale a 0 e quindi questo termine non c'è e siamo nel caso precedente quindi questo se volete è il caso generale e l'esempio che volevo farvi era questo u secondo più appunto omega quadro u uguale coseno di omega x io andrò a cercare quindi io so che le soluzioni dell'omogenea le soluzioni dell'omogenea il polinomio abbiamo detto più di lambda è lambda quadro più omega quadro che si decompone come lambda più i omega lambda meno i omega e le soluzioni dell'omogenea questo questo 0 sarebbe o un'omogenea sono della forma a coseno di omega x più b seno di omega x queste sono le soluzioni dell'oscillatore armonico che è l'equazione omogenea corrispondente io cerco una soluzione di che forma? beh devo cercare una soluzione di che forma? e devo prendere seno e coseno quindi coseno di omega x seno di omega x perché se prendo se c'è un coseno mi può anche comparire il seno perché quando faccio le derivate del coseno mi compare il seno viceversa quando faccio le derivate del seno mi compare il coseno qui ci prendo un coefficiente ora a e b li ho usati per l'omogenea diciamo a piccolo e poi ci devo mettere anche una x a moltiplicare più b piccolo e una x perché omega scusate perché i omega diciamo moralmente perché questo coseno va in risonanza con le soluzioni cioè io sto applicando una forza che ha la stessa frequenza della soluzione dell'equazione quindi ho se volete il mio pendolo o il ponte che oscilla e sto dando una forza con la stessa frequenza di oscillazione con la frequenza propria del sistema e questo avrà degli effetti abbastanza devastanti cioè il sistema entra in risonanza mentre se la frequenza qui è diversa sostanzialmente rimane l'oscillazione del sistema rimane indipendente dalla forza provate a farlo è quello che abbiamo visto prima se la frequenza è la stessa il sistema entra in risonanza e la soluzione particolare va cercata quindi in questa forma ok scusate vi rubo ancora qualche minuto così finiamo questo esercizio e poi lunedì facciamo l'ultimo l'ultimo metodo risolutivo quindi io so che posso trovare una soluzione di questa forma e lo verifico semplicemente mettendo u star dentro l'equazione quindi faccio la derivata voglio scrivere vediamo derivo prima rispetto derivo prima questo termine che mi dà un coseno derivo questo è un prodotto quindi ci sono diversi termini qui c'è bx omega coseno di omega x quando derivo il seno quando derivo la x mi rimane un lo scrivo qui in fondo b seno di omega x quando derivo qui il coseno mi viene un meno a x omega seno di omega x e quando derivo la x mi rimane un più a coseno di omega x questa è la derivata prima faccio la derivata seconda allora vorrei scrivere vediamo derivo questo derivo il seno quindi mi viene meno a x esce una omega omega quadro coseno di omega x ho derivato il seno derivo qui il coseno vediamo se mi ricordo tutti i termini sto cercando di scriverli con un certo criterio derivo qui il coseno mi viene meno bx omega quadro seno di omega x poi quando derivo quando qui derivo anzi facciamo questo quando qui derivo questo seno mi viene meno b omega coseno di omega x ma mi viene un termine simile quando derivo questa x qui quando derivo questa x mi viene più b più b è giusto? omega coseno di omega x quindi questi si cancellano e poi e poi quando ah no è vero ma non si cancellano no ha ragione infatti no no non si cancellano qui viene più 2 ha ragione no derivata del seno è il coseno e quindi non si cancellano no no ok e poi c'è ancora la derivata del coseno è meno a omega seno di omega x e la derivata di questo seno è di nuovo meno scusate la derivata di questa x è meno a omega seno di omega x quindi anche questo si sommano viene meno 2 ora però devo scrivere l'equazione u secondo più omega quadro u star questa era l'equazione e cosa succede qui qui si dovrebbe cancellare un bel po' di roba perché u secondo è per esempio questo termine meno a x omega quadro non si cancella niente ah sì qui viene meno a x omega quadro coseno di omega x ma quando scrivo omega quadro u c'è lo stesso termine qui quando moltiplico per omega quadro c'è ok qui devo moltiplicare questo per omega quadro questo devo moltiplicare per 0 perché non c'è nell'equazione e questa la moltiplico per 1 e allora questo termine qui questo termine si cancella con questo e questo si cancella con questo e quindi rimane rimane questo termine qui che fortunatamente non era 0 altrimenti non sarebbe venuto niente 2b omega coseno di omega x meno 2a omega seno di omega x e questo deve essere uguale lo forzo a essere uguale al coseno di omega x e quindi trovo b uguale a un mezzo a uguale a 0 e trovo quindi la soluzione particolare è dunque a e b cos'erano u star era ax coseno più bx seno quindi ax coseno vedete che in questa volta il coseno scompare rimane bx quindi un mezzo x seno di omega x e la soluzione generale quindi sarà a coseno di omega t più b seno di omega t più x mezzi seno di omega eh no t scrivo t perché di solito qui si usa sempre la variabile t ma perché è un tempo no la x non ho scritto t da altre parti no ho sempre scritto x e quindi questo che cos'è e quindi qui si vede che l'oscillazione propria viene quando il tempo tende all'infinito cioè all'aumentare del tempo qui c'è qualche cosa che diverge no questo è quindi a più x mezzi no viene a coseno di omega x più b più x mezzi seno di omega x quindi anche se se io scelgo l'oscillazione se il ponte ha un'oscillazione piccolissima con una con una fase diversa potrebbe esserci una fase diversa potrebbe non essere un seno ci potrebbe essere b potrebbe anche b grande potrebbe anche essere zero vuol dire che che il ponte oscilla con una fase sbagliata ma se io faccio passare l'esercito no che con che batte i piedi con la frequenza di oscillazione giusta del ponte questo termine tende all'infinito cioè l'oscillazione se vuoi scoprire il grafico di questa oscillazione diciamo la fase cambia ma l'oscillazione si amplifica d'accordo dobbiamo chiudere qui spengo la registrazione all'infinito Grazie a tutti.